Buonasera a tutti, faccio questo video questa sera innanzitutto per ringraziare tutti quelli che sono venuti a Salerno nel nostro stand a salutarci e ad acquistare i nostri prodotti. Quindi siete stati veramente in tanti, in tanti ho incontrato nella mostra ennitologica, ho stretto tantissime mani, ho parlato con tantissime persone, quindi vi sono veramente grato e sono grato all'organizzazione per l'accoglienza che ci ha riservato e soprattutto mi sento di citare Nicola Nassi il quale veramente ha dato l'anima sia per la mostra sia per farci sentire al nostro agio. Ecco, volevo avvisarvi quindi con questo video che saremo presenti questo sabato e questa domenica sempre con i nostri prodotti e con il nostro stand alla mostra Piume di Cesena. Quindi ecco, vi aspettiamo al nostro stand con i nostri prodotti che sono prodotti tipici, poi avremo il mio fiene, il mio olio che purtroppo non è stato disponibile a Salerno per via dei disguidi che ci sono stati con il Corriere, ma a Cesena li avremo e quindi io vi sarei veramente grato se voi prenotassi in anticipo i prodotti per consentirci proprio di avere poi modo di gestire meglio gli ordini e gestire meglio insomma il carico che faremo. Io vi ringrazio tutti, ringrazio ripeto tutti quelli che sono venuti a trovarci a Salerno e ringrazio in anticipo tutti quelli che verranno a trovarci sabato e domenica al nostro stand dove sarò presente insieme a mia moglie. Grazie a tutti, ci vediamo sabato e domenica.